Supportatevi tutti quanti come creatore scrivendo il codice ORCUVERDGAMER12 nel negozio oggetti Supportandomi come creatore potete giocare con me su Fortnite E se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games Le accetto a tutti Il mio id Epic Games è uguale al codice creatore ORCUVERDGAMER12 Bella a tutti Orchetti sino Orcuverde In questo video vi mostrerò come ottenere una nuova copertura Una nuova emote, un nuovo piccone e un nuovo standard Completamente gratis su Fortnite Allora Orchetti A partire da oggi, giovedì 17 settembre Su PlayStation 4 è disponibile un nuovo pacchetto di Fortnite Per i membri di PlayStation Plus Che contiene 4 oggetti di cui un piccone, una copertura, uno standard e un emote Per avere questo pacchetto la prima cosa che dovete fare dovete recarvi su PlayStation Store Poi dovete andare su cerca e scrivere la lettera F Poi dovete spostarvi a destra nella categoria dei risultati Poi dovete scorrere verso il basso e selezionare questo pacchetto Che sarebbe il nuovo pacchetto celebrativo PlayStation Plus di Fortnite E dopo aver selezionato questo pacchetto Dovete premere X su Scarica Fatto ciò dovete uscire dal PlayStation Store e avviare Fortnite E appena entrerete nella modalità battaglia reale Otterrete questi 4 oggetti del pacchetto Che sono il piccone raro punta perfetta La copertura rara Battuglia di punta L'emote cosa di categoria non comune E poi questo standard Pacchetto che possono scaricare solamente i giocatori di PlayStation 4 Che hanno l'abbonamento a PlayStation Plus Quindi niente orchetti Io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su Commentate e condividete Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto Se siete su PlayStation 4 Vi invito ad entrare nella mia community Orcoverdgamer tra parentesi YT Sempre scritto nella descrizione di ogni video Così come anche tutti i link dei miei social dove vi invito a seguirmi E da Orcoverd è tutto Ad un prossimo video Bella